Dopo il successo del primo bando con più di 60.000 candidature, Asmel, l'associazione che comprende i comuni con meno di 100.000 abitanti, pubblica due nuovi avvisi in gazzetta ufficiale per la creazione e l'aggiornamento degli elenchi di idonei per l'assunzione negli enti locali. Da questi elenchi possono attingere tutti i comuni soci di Asmel, l'associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali, che al momento conta su 4.000 enti associati. Il primo bando prevede l'aggiornamento annuale degli elenchi per i 15 profili banditi nel 2022, mentre il secondo avviso riguarda 16 nuovi profili ripartiti tra laureati, diplomati e operai specializzati. Una risposta efficace rispetto all'alto tasso di rinuncia è spesso vicino al 60% riscontrato nei recenti concorsi nazionali, che mettono invece in secondo piano la necessità e le preferenze territoriali dei candidati. Ulteriori particolari li ha forniti Isabella Vairo, responsabile di Asmel. Gli avvisi dello scorso anno hanno raggiunto 15 profili professionali. Quest'anno abbiamo più che raddoppiato i profili, andando a coprire tutti i fabbisogni dei comuni, anche e soprattutto per le esigenze attuative del PNRR. Parliamo infatti di categorie B, C e D, aperte a laureati, diplomati ed operai specializzati. Attualmente sono oltre 350 le assunzioni in corso e già 80 i neoassunti. Il candidato, superando una prova selettiva telematica, viene iscritto negli elenchi di doni disponibili per le assunzioni nei comuni. Gli elenchi hanno durata triennale e il candidato idoneo può scegliere di rispondere alle esigenze dei comuni più vicini a casa propria.